Fase di lavoro silenzioso ma intenso per il campo basso che sta ricostruendo la propria base societaria sotto la guida di Agnello Aliberti. Quest'ultimo è contrario a proclami o anticipazioni di stampa, testa bassa e lavorare. Lo stesso Aliberti stamani ci ha comunicato perentoriamente a telefono che quella che sta per nascere sarà una società con pochi ruoli ma funzionali. Insomma un campo basso con poche teste ma ognuno al posto giusto. Ricordiamo pure che siamo alle strette anche per quanto riguarda l'operazione di ricapitalizzazione, prima approvata poi stabilita entro la fine del mese corrente. La società non nasconderà nulla, ogni novità verrà illustrata in una conferenza stampa che dovrebbe tenersi nel corso della prossima settimana. In un momento successivo si passerà alla definizione di nuovi programmi e relativi obiettivi, le vere certezze almeno ad oggi. Riguardano solo l'aspetto prettamente tecnico. Abbiamo già annunciato della separazione da Favo che verosimilmente accompagnerà pure quella con il preparatore atletico Lossi, giunto nel capoluogo insieme con l'ormai ex tecnico Rosso Blu. Da rivedere con attenzione anche il ruolo di direttore sportivo. Lo stesso Minadeo sembra sul punto di non rivestire più detta carica, svolta a dire il vero con più bassi che alti. Per Rucci ancora alla presidenza della società Rosso Blu, un altro tassello potrebbe essere riempito dalla presenza di un nuovo amministratore societario. Si annuncia un organigramma snello e che cercherà di svolgere il proprio lavoro in maniera efficiente. Il mosaico vivrà armonicamente con la collaborazione degli sponsor che hanno deciso di sposare la causa Rosso Blu in questi anni. Tra questi, il principale è stato il marchio Flogas, cui va dato atto di aver ridato impulso vitale al discorso calcio a Campobasso dopo l'ennesima disfatta societaria firmata Capone nell'estate del 2013. Si è partito da Flogas per risollevare i destini del calcio Rosso Blu. Grazie a quest'ultima azienda è stato possibile preparare il terreno per la discesa in campo di Agnello Aliberti a Campobasso. La svolta societaria è avvenuta. I tanti e calorosi tifosi Rosso Blu auspicano che sia quella buona.